Capitolo 14 Nel futuro Ebbene ragazzi, come da titolo del capitolo noi ora ci troviamo nel futuro, dopo il colpo di scena avvenuto nella scorsa parte, qualcosa di veramente molto strano sta per accadere e beh, vedremo. Oh, dove, dove mi trovo? Devo tenere gli occhi aperti. Spiacente di averti fatto attendere, grande di Alga, è vero, ho trovato maggiore difficoltà rispetto a quello che avevo previsto, tuttavia la caccia ha finalmente dato i suoi frutti. Capisco perfettamente, coloro che cercano di cambiare il corso della storia devono essere cancellati dalla storia, mi occuperò di questo immediatamente. D'accordo, come desideri, vado. Ehi, devil, svegliati, devil. Oh. Dove... Stai bene? Questo posto penso che sia una prigione. Prigione. Anch'io mi sono svegliato un minuto fa e non so cosa stia succedendo. Ho provato ad aprire la porta, ma è bloccata. Non sembra esserci un'altra via d'uscita. Temo che ci abbiano rinchiuso per bene. Mmm. Ma cosa sta succedendo? Ci hanno rinchiuso. Anch'io non capisco cosa succede, ma tanto vale dare un'occhiata in giro. Devil controlla la porta. La porta non si apre. È inutile. Come ha detto Shinx, la porta è bloccata. Non c'è via d'uscita. Mmm. Ma come siamo finiti qua? Mi sembra di ricordare Dusknoar ci ha afferrato, poi ci ha trascinato nel tunnel dimensionale. Ehi, un momento. Allora, questo è il futuro? Non è... No, non riesco a crederci. Questo è veramente il futuro? Perché siamo qui? Mmm, in effetti non ho mai visto una stanza come questa. Deve essere davvero... Sì, è così. Siamo nel futuro. Ah, Devil, siamo finiti nel futuro. E adesso che facciamo? Se questo... Se questo è veramente il futuro, come faremo a tornare nel presente? Sono già in piedi. Molto bene. Allora cercheremo di fare tutto alla svelta, va bene? Fare cosa? Che succede? Ah, mi hanno bendato. Non ci vedo più. Di qua. Oi, non spingete. Con questa benda non riesco a capire dove stiamo andando. Dove ci stanno portando? Siamo arrivati. Dove? Oh. Dove siamo? Mi hanno legato, non riesco a muovermi. Perché tutto questo? Ehi. Sono felice di vederti. Stai bene, vero? Mm. Non avete idea di cosa stia succedendo? Mi chiedo come facciate ad essere così superficiali. Eh? Quella voce veniva da laggiù. Grovail. Voi due avete la minima idea di quello che sta succedendo? No. Questa è una sala punizioni. Si vogliono sbarazzare di noi una volta per tutte. Cosa? Sbarazzarsi di noi? Aspetta un secondo. È facile capire perché vogliono liberarsi di te, Grovail. Ma noi cosa c'entriamo? Non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Bah. Non me ne potrebbe importare di meno. Dovete aver fatto qualcosa che non potevano tollerare. Cosa? Non abbiamo fatto niente di niente. Non pensare che siamo come te. Non mi importa. E così, mentre stavate discutendo, avete visto? Stanno arrivando. Ah, chi sono quelli? Sono i carcerieri che qui fanno tutto il lavoro sporco. Sono anche loro degli scagnozzi di Dusknoir. Cosa il grande Dusknoir? Ehi, è Dusknoir, Lord Dusknoir. I tre sono stati legati ai pali. Bene. Dusknoir, signore, sono io, Shinx. Molto bene, Sibail. Dobbiamo liberarci di questi tre. Cosa? Non dategli retta. Preparatevi. Sablei. Sablei, non Sibail. Sablei, sì. Aspettate un minuto. Dusknoir, signore, cosa le succede? Perché ci sta facendo questo? Non sprecare il fiato. Fate silenzio. Abbassate la voce in modo che non vi possano sentire. Abbassare la voce. Se volete scappare, voi due dovete darmi la vostra completa collaborazione. Cosa? Aiutare te, Grovel? Non c'è tempo per pensare. Mi ha aiutato? Preferite rimanere nelle loro grinfie. Psss, ehi tu? Dimmi. Ora cosa faresti? Cosa? Cosa farei? Me lo chiedi così all'improvviso? Che cosa farei? Una mossa? Una mossa? Potrebbe funzionare, ma no, non va bene. Siamo legati e non possiamo muoverci. Ci deve essere qualcosa che puoi fare nell'immediato. Che fare? Usa strumenti. Usa strumenti. Attacca. Sì, può funzionare. Se usi solo un attacco normale, posso aiutarti anch'io. Bene. Possiamo cominciare. Molto bene. Ma mi raccomando, non toglietegli gli occhi di dosso. Specialmente da quel Grovel. Cominciate, subito. Stanno arrivando. Ascoltate attentamente. I Sablei usano gli artigli per colpire. È spaventoso. Questo può aprirci una via di fuga. I Sablei useranno con impeto le loro sfuriate. È la nostra unica possibilità. Se anche solo uno dei loro attacchi colpisse le corde che ci tengono legati... Ah, è vero. Le corde si allenterebbero. Proprio così. E se succede, usiamo un attacco e scappiamo. Ma cosa succede se le loro sfuriate non colpiscono le corde? E cosa accade se i Sablei non usano sfuriate? Se succede, no. Non voglio nemmeno pensarci. Resistete. Aspettate la nostra occasione. Ma se continuano così andremo K.O. prima di avere un'opportunità. Ehi! La corda è sfilacciata. Ora, attacca. Vai! Oh, che male. Cosa succede? Ecco. Non si vede più niente. State calmi. È solo una lumisfera. Il suo effetto svanisce in fretta. Oh, fantastico. Maledizione. Quel Grovel è scappato usando il bagliore della lumisfera come copertura. Non fuggiranno così facilmente. Venite. Venite. Quello che succede. Blè, ho della terra in bocca. Ce l'abbiamo fatta. Allora Grovel può usare la mossa fossa. Di sicuro conosce molte mosse. L'abbiamo scampata. L'abbiamo scampata bella. Ma non siamo ancora fuori dai guai. Usciamo da qui. È in fretta. Vuoi salvare l'avventura? No, non voglio salvarla. Forza, da questa parte. Dobbiamo continuare a correre finché non troviamo l'uscita. Coraggio. Più in fretta. Andiamocene. Più in fretta. Smettila di darmi ordini. Ad ogni modo Grovel è il cosa? Questo è il futuro? Proprio così. Afferri le cose in fretta. Ah, è così. Dopotutto noi riusciremo a ritornare nel presente? Chi lo sa. Per ora pensiamo a scappare. Se ci prendono, ritornare a casa diventerà l'ultimo dei vostri problemi. Sbrighiamoci. Non ce la faccio. Sono esausto. Ci siamo quasi. Guardate, l'uscita è proprio lì. Ce l'abbiamo fatta. Siamo fuori. Ah, che cos'è tutto questo? Questo è il nostro mondo. Nel futuro. Quei massi stanno galleggiando. È davvero un passo strano. Ed è terribilmente buio. Non c'è nemmeno un filo di vento. È come se tutti i movimenti... È come se tutto fosse immobile. Immobile. Esattamente. Cosa? Ah, sento quei sablei. Dobbiamo continuare a correre. Ascolta, Grova. Il sonno è esausto. Non c'è tempo per riposarsi. Se ci prendono siamo spacciati. Tenete duro e correte. Facile a dirsi. Non ce la faccio. Mi devo riposare un attimo. Va bene. Qui c'è un riparo naturale. Non dovrebbero vederci. Dopo un breve riposo dovremo rimetterci in marcia. Aspetta un minuto. Quando siamo scappati dalla sala punizione abbiamo collaborato con te perché eravamo costretti a farlo. Ma non abbiamo mai promesso che poi ti avremmo seguito. Un po' come un cattivo come te non sei uno di cui fidarsi. Bah. E così io sarei quello cattivo? E quel Dusknoar il buono? Allora come vi spiegate quello che stava facendo Dusknoar poco fa? Non volevano solo me. Volevano sbarazzarsi anche di voi. Ma questo non significa che mi debba fidare di te Grovail. Sembra che guadagnare la vostra fiducia non sia un compito facile. Pensavo che avere degli alleati fosse d'aiuto ma se non mi credete non c'è motivo di proseguire insieme. Le nostre strade si dividono qui. Io me ne vado. Voi due cercate di muovervi il prima possibile. Possibile. Buona fortuna. Aspetta un secondo. Ci dici di partire il prima possibile ma ora è tutto buio. È difficile capire in che direzione si sta andando. Invece di incamminarci subito perché non aspettiamo mattina? Non possiamo aspettare che sorga il sole? È impossibile. Odio doverlo dire ma il mattino non arriverà mai. Cosa? Questo mondo, il vostro futuro, è un mondo di oscurità perpetua. Il sole non sorge mai. Dunque non esiste nessun mattino. L'oscurità è perenne. Perché? Perché il pianeta è paralizzato. Il pianeta è paralizzato. La paralisi del pianeta. La paralisi del pianeta. È vero il ricordo. Dusknoar aveva già descritto la paralisi del pianeta. La paralisi del mondo. Esattamente. Qua stiamo rivevendo un flashback di Shinx. Che ricorda le parole di Dusknoar. Le abbiamo già sentite. Quindi credo sia inutile stare a rileggerle. Comunque presto parleremo meglio di questo che sta succedendo. Il vento non soffia più. Il giorno non arriva mai. La primavera e l'estate non sorgono mai. Il mondo sprofondano nell'oscurità eterna. Testuali parole di Dusknoar. Non potrei definirlo in altro modo se non la completa rovina del mondo. La paralisi del pianeta. Certo, questo posto sembra proprio quello che descrive Dusknoar. Tuttavia faccio fatica a comprendere come mai il pianeta sia rimasto paralizzato nel futuro. Potete credere o non credere a quello che vi dico. In ogni caso vi suggerisco di andarvene da qui il prima possibile. Io vado. Non lasciatevi acciuffare da quei sablei. Ah Devil. Non so più cosa pensare. La paralisi del pianeta non deve essere costata dalla sparizione di tutti quegli ingranaggi del tempo. E' per questo che cercavamo tutti quanti di impedire a Grovel di rubare gli ingranaggi del tempo. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, no? Uxie e gli altri avevano detto che avrebbero rimesso gli ingranaggi del tempo al loro posto. Questo avrebbe dovuto evitare la paralisi del pianeta. Ma nonostante tutti i nostri sforzi, perché il pianeta è ancora paralizzato nel nostro futuro? Non so più a chi e cosa credere. I sablei non possiamo restare qui, Devil. Prepariamoci velocemente, così ci rimettiamo in marcia. Allora ragazzi, c'è addirittura il controllo degli strumenti. Allora qua riordiniamo tutto. Allora va bene, tanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Seme puro potrebbe tornarmi utile. Molti revita il seme. Depositiamo questo, va. Non posso più depositare perché penso di aver riempito la statua. Comunque tutto pronto, Devil, tutto pronto. Ok, andiamo presto. Andiamo immediatamente ragazzi. Grotta dello spazio. Pokémon di tipo spettro, quindi direi di assegnare un morso per il momento. Allora ragazzi, allora, allora, allora. Si può cadere? No, non si può cadere. Cosa sta succedendo? Perché Dascomar vuole sbarazzarsi sia di noi che di Grovel? Come ha detto Shinx, forse di Grovel, per Grovel un motivo c'è, ma per noi perché? Beh ragazzi, lo scopriremo solo vivendo. Per il momento direi di proseguire per questo dungeon. I nostri livelli non sono assolutamente alti. Infatti dobbiamo stare molto attenti perché tutti i Pokémon qua possono rivelarsi dei problemi. Ecco ragazzi. Allora, vediamo un attimo. Shinx adesso sta attaccando Magnumet. Perfetto, l'ha mandato K.O. Qua c'è anche un Grampig che noi ovviamente mandiamo subito K.O. Cosa sta succedendo? Perché il mondo è paralizzato nonostante, diciamo, che abbiamo impedito che gli ingranaggi del tempo venissero rubati? Qualcosa di molto strano sta accadendo. Dobbiamo capire cosa e perché soprattutto. Perché? Perché Dascomar si sta rivelando un mega cattivo del gioco? Ha parlato addirittura con Dialga. Ma di cosa parlavano ragazzi? Sono tutti interrogativi ai quali presto daremo una risposta. Per il momento dobbiamo però sbrigarci. Un Revital Seme trovato subitissimo. Revital Seme assolutamente, detto più volte, è lo strumento che preferisco nel gioco. Qua un Seme Vorax. Sì, lo strumento che io reputo il più potente in assoluto. Tuononda, fantastico. Un'altra tuononda per Shinx. Ovviamente per il... Oh, ho sbagliato. Ho sbagliato, sì. Vabbè, riutilizzo Morso qua. Dovevo andare di Palmo Forza. In ogni caso. Prima vi stavo dicendo non penso di dover aggiungere altro perché... Oddio, brutto colpo. Ok, quindi posso forse stare tranquillo per un eventuale altro air rasoio ecco. Tranquillo si fa per dire. Aia che male. Aia che male. Mi metto qua comunque. In questo modo Shinx è l'unico che deve attaccare... Oh, un Onix! Un Onix, ragazzi. Oddio. L'avete visto? È un gigante. Veramente gigante. Ok. Stanno recuperando tutti i propri punti salute. Premendo A e B contemporaneamente. C'è la possibilità di attivare questo... Questo recupero. Si fa passare praticamente il tempo. È come se noi camminassimo. Però... Non camminiamo semplicemente. Purtroppo fallito. Magivelo. Non so a quals'a faccia. Un altro Morso. E vabbè. Allora, vi stavo dicendo per l'annessima volta, ripeto, che non penso di dover aggiungere altro. Quel Duskmar vuole sbarazzarsi di noi. Però non c'è un vero motivo per il quale lui debba farlo. Cioè, noi lo abbiamo sempre aiutato, ma... Boh, boh. Lo scopriremo, ragazzi. Lo scopriremo. Siamo nel futuro, comunque. Un mondo paralizzato. Un mondo paralizzato non si sa per quale motivo. Anche perché tutto è in regola. Almeno nel passato tutto è in regola. Quindi deve essere successo qualcosa che comunque ha portato alla paralisi del pianeta. Come avete visto, il vento non soffia più. Il tempo non scorre più. Il sole non sorge mai, ragazzi. Quindi... Cosa sta succedendo? Tanto Shinx sarà a livello 28. Ottimo. Sono sempre più tranquillo quando salgono di livello. Perché... Perché sì. Presto salirà anche Devil. Tanto qua posso trovare dei soldi. Soundtrack fantastica. Anche questa Soundtrack è bellissima, ragazzi. Ma in questo gioco è difficile trovarne una che sia brutta. Che non sia udibile. È veramente difficile. Perché sono tutte fantastiche, ragazzi. La cura che è stata messa in questo gioco è veramente qualcosa di assurdo. Ed è un gioco vecchio, ragazzi. Io ci tengo a precisare che non è un gioco uscito nel 2015. Ma è un gioco vecchio. Presto uscirà un nuovo Pokémon Mystery Dungeon in Giappone. Proprio nel mese di settembre. Mentre per vederlo anche da noi in Italia dovremo aspettare... Dovremmo aspettare i... Fatemi pensare. Cosa dobbiamo aspettare? Oh, oddio. Questo coso non mi piace. Allora, dobbiamo aspettare comunque i primi di gennaio. Perché... Oddio. L'effetto... L'effetto di quel Drifilblim non mi piace. Oh, la fame sta facendo brutti scherzi. Direi di mangiare una bella mela. Proseguiamo. Rotta dello spazio. Qua c'è un altro Drifilblim. Al quale dobbiamo stare molto attenti. Eh, perché esplode, ragazzi. Devil sale a livello 28. Comunque non apprende nessuna nuova mossa. Ricordo che Devil ha molti più punti esperienza di Shinx. Perché ha preso un'abilità qui che gli ha permesso appunto di aumentare i suoi punti salute. Allora, devo trovare... Oddio, no. Oddio, 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 oddio. Velo pesca. Mangiamo un attimo il semiapuro? No, mi sembra... Ma se lo do a Devil ve lo pesca. Guarisco dall'avvelenamento? Non lo so. Non lo so, ragazzi. Oddio. Ah, no. Ok, ovviamente non sono guarito. Quindi posso ridare questo fiocobalto a Devil. Quasi, quasi, mangio il semiapuro. Ok che il semiapuro è uno strumento che non va sprecato in questo modo. Però, va bene. Vedete, adesso mi teletrasporta subito alle scale. E va bene. Qua c'è uno strumento. Oh, sub, ragazzi. Wow. Rimandiamo qua ad aumentare i nostri punti salute. Oh, c'è qualcuno che sta... Oh, no. Oh, no. Questo Onix... Vai, 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 vai. Focal colpo. Disintegra, lo ti prego. Boom, ragazzi. I danni. Meglio che controlla io comunque la situazione. Si sta avvicinando... Ecco, sabbia, 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 sabbia. No, non mi piace. Quell'Onix deve aver utilizzato Terra Impesta. Purtroppo, a causa del maltempo, i nostri Pokémon subiscono dei danni, però non mi sembrano danni così alti. Infatti, Shinx ha comunque recuperato qualcosa. Ovviamente non li recupera troppo facilmente, però... Oh, ragazzi. Wow. Questa è la mia parte preferita del gioco in assoluto. Sì, veramente, questa è la mia parte preferita del gioco. Quella nel futuro. Che poi, vabbè, il gioco mi piace un po' tutto, eh. Però questa parte più delle altre. Rappresenta anche in Pokémon Mystery Dungeon, esploratori dell'oscurità e del tempo. Però, boh, ragazzi, a me veramente piace. Ha un fascino assurdo. Anche perché io, diciamo che... Ho una certa passione per... Per gli eventi legati al tempo. Amo, innanzitutto, i film legati al tempo. Vi posso citare, ad esempio, la trilogia di Ritorno al Futuro. Fantastico. Ma poi ne ho visti anche moltissimi altri. E, beh, c'è poco da dire riguardo questi filmoni. Veramente fantastici. Ecco, fantastici, però un cavolo, eh. Allora, Stredio. Proviamo un attimo a diminuire l'attacco a questo... Eh, voglio dire... Perfetto, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta senza neppure dover... No, no, no. Non posso continuare così. Devo dare prima un Elisir Max a Devil. Che comunque ha subito dei danni. Proviamo un attimo a rimanere qua. Per recuperare dei punti di salute. Il problema è che c'è la tempesta di sabbia. Vabbè, comunque, vi dicevo... A me piacciono particolarmente questi eventi legati al tempo. Eh, che dire... Mi piacciono veramente tanto. Tanto, tanto. Allora, allora... Dobbiamo stare attenti a questo coso. Questo Driflyblim. Oh, no. Adesso non mi dire... Purtroppo, quando scoppia, mi sembra di mezzi IPS del Pokémon. E non è assolutamente una bella cosa. Comunque... Guarda, Devil. Quella laggiù può essere l'uscita. Andiamo a vedere. Abbiamo raggiunto la prima uscita. Adesso abbiamo messo un po' di distanza tra noi e quei sablei. Ora ripostiamoci un po'. Oh, là c'è dell'acqua. Cosa? Questa cascata, l'acqua è immobile. Gli zampilli d'acqua sono sospesi in aria. Aveva ragione Grovela, alla fine. Il tempo nel futuro si è davvero fermato. Perché Duskmar ci ha portato qui? Il grande Duskmar che era così gentile con noi. Non so più a cosa credere. Se solo ci fosse un modo per scoprire la verità. Ah, ci sono. Un modo c'è per scoprire la verità, Devil. Eh? Il tuo squarcio dimensionale. Usa il tuo squarcio dimensionale, Devil. Tocca quest'acqua immobile. Chi lo sa, potresti vedere qualcosa. Ah, ho capito, è vero. Vale la pena di fare un tentativo. Potrei toccare quell'acqua immobile. In questo modo potremmo trovare qualche indizio su quello che sta succedendo. Non perdiamo tempo. Quei sablei ci sono alle costole. Facciamo presto. Devil tocca lo zampillo dell'acqua immobile. Allora, Devil, vedi qualcosa? Eh, a quanto pare... No, non avverto niente. No, eh? Che delusione. Sarei più tranquillo se cominciassi a capire cosa sta succedendo. Non abbiamo scoperto nulla. Siamo qui da un sacco di tempo. Se non ci sbrighiamo, quei sablei ci raggiungeranno. Prepariamoci e andiamo. Dove ci possiamo preparare? Ah, sì, ok. Qua c'è un'altra cosa di Kangaskhan. Allora, controlla strumenti... Ah, non posso depositare, giustamente. Quindi mi devo portare comunque tutto dietro. Ok, andiamo. Andiamo. Colle oscuro. Piano 1. Un altro Pokémon di tipo spettro anche subito in questo piano. Finta. Se cominciamo a missare le mosse però è un casino. Oh, privazione. Questa è stata una privazione. Eh, purtroppo ragazzi, se stanno là sopra poi... Non posso neppure... Non posso neppure... Non ritirata, sì. Non ritirata, assolutamente. Ah, questo furtivo ombra, no. No, allora, andiamo per di qua. Guardate, Shinx, come se la sta dando a gambe, dannazione. No, Shinx, aspetta. Non devi più andare in ritirata. Allora, Shinx, tattiche... Siamo una squadra, ok. Avvicinati. Allora. Allora, ragazzi. Sì, ovviamente quello che ci ha detto... Oh, psico raggio che parte, però fallisce. Dicevo, quello che ci ha detto Grovel si sta rivelando la verità. Perché appunto ci troviamo nel futuro. Nel terribile futuro, ragazzi. Oh, qua addirittura c'è una trappola. No, la scoppia è trappola. È un casino, vabbè. Allora, squadra, Devil. Devil, identikit un attimo. Ah, ok. Gli mancano veramente molti punti esperienze per salire al prossimo livello. Comunque qua diamo il fiocco balto a Devil. E proseguiamo. Colle oscuro, piano 2. Oh, un bel Gastly. Ciao, Gastly. Bel morso. Un altro bel morso. Questa mossa si sta rivelando molto molto utile. Colle oscuro, piano 3. Ecco, un altro Misdrivas che ora spara il suo psico raggio. No, devo stare troppo attento. Bravo, Shinx. Ottima prestazione. Però devi stare attento perché non è più molti punti esperienza. Qua troviamo una grave darroccia. È punti esperienza, punti salute. Perdonatemi. Procedi. Colle oscuro, piano 4. Una mela. E proseguiamo immediatamente per il piano 5. Qua c'è un Gastly. Posso usare il mio morso. Wow. Malosguardo. Eh, finché ho malosguardo non posso cambiare direzione. Bello schifo. Allora, andiamo di focal colpi innanzitutto. Boom! Danni si fanno sentire nonostante la mossa non debba avere effetto. Ovviamente qua non ci sono mosse che non hanno effetto. Se non ci sono particolari abilità. Tutte le mosse diciamo che non hanno effetto. Diventano mosse non molto efficaci. Comunque sì, possono fare lo stesso molti danni. Allora, attacco rapido su quel Gastly. Oh, una fiele trappola che avvelena. Vabbè, per fortuna ci sono subito le scale. Quindi, ok. Ci sono altre scale qua. Quindi proseguiamo. Assolutamente. Colle oscuro piano qua. Ok. Attacco rapido. Brutto colpo. Infatti ho visto abbastanza danni. Oh no, questa trappola ha trasformato tutti gli strumenti in Pokémon. Fantastico. È un cavolo fantastico. Vabbè, comunque il morso di Shinx è più potente del nostro. Voglio capire perché. Penso abbia più attacco a questo punto. Noi abbiamo 51 mentre Shinx è 54. Pochissimi punti di differenza. Poi vabbè, ci sono i roll, ma ok. Allora, un altro Hunter. Un bel morso. Attacco rapido, purtroppo, che non riesce a colpirlo. In seguimento. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Allora, mi è fatto molto male quel colpo. Purtroppo qua... Attacco rapido sembra proprio non avere effetto, però le mosse normali in questo modo veramente non hanno effetto. Ok, allora, quindi... No, Shinx, tu mi hai rotto con questa... Ah, mi hai rotto con questo attacco rapido. Utilizza scintilla o morso. Eh, sì, vabbè, però se mi falliscono tutte le mosse non è che possa fare veramente troppo, eh. Allora. No, 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 allora, squadra, Shinx. Oddio, un punto salute. Eh, penso che Shinx presto ci abbandonerà. In ogni caso, in ritirata. Ah, purtroppo sì. Purtroppo, Shinx... Eh, che posso fare, ragazzi? È troppo P avere un Pokémon spettro. Ecco. Aspettami, Shinx, però, eh. Guardate questo pugno d'ombra. Wow, wow, wow. Oltretutto... Eh, perché i Pokémon spettro, no, ragazzi? Si mettono là. Eh, io posso fare poco. Posso fare poco, eh. Adesso, guardate se devo iniziare a sclerare per... Ecco. Oh, fantastico. Eh, però, anche qua... Poco da fare. Devo sperare nella paralisi di Palomoforza, se voglio uscirne vivo. Eh, ok. Va benissimo, va benissimo. Anche così Shinx sale a livello 29. 29 sta per imparare una nuova mossa. Fulmidenti, eh, vediamo un attimo. Fulmidenti, molto precisa e potente. Vediamo invece, ehm... Ma, più o meno è come Scintilla. Nemico di fronte, mentre Fulmidenti causa danni all'obiettivo. Inoltre gli può provocare... Eh, sì, più potente di Scintilla. Quindi direi di togliere Scintilla e di insegnare Fulmidenti. Ottima mossa. Ottima mossa. Va benissimo. Allora, qua ci dovrebbe essere un altro Gravel Roccia. Eh, dovrei trovare un vicolo per recuperare punti di salute. Uno di quei vicoli ciechi che, beh, mi proteggono almeno dagli attacchi alle spalle. In ogni caso adesso sì, questa strada molto lunga mi permette di recuperare vari punti di salute. Palomoforza, fantastico, paralizzato. Fulmidenti, ottima, bellissima. Bellissima l'animazione di Fulmidenti, comunque. Eh, qua c'è un altro Clydol che prima, diciamo, è stato clemente con noi. Impedendoci di andare capò. Purtroppo, vabbè, eh, oh, qua ci sono le scale, eh. Però ho abbandonato Scintilla e devo sbrigarmi, eh. Non vorrei si cacciassi in qualche guaio. Allora, qua ci sono le scale. Piano 9. Perfetto. Allora, 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 allora. Un altro str... Oh, un seme puro. Eh, dovrei avere un seme basso nella borsa, dato che ho utilizzato un... Un Revital Seme. Quindi lo scambio. Seme puro è molto più utile di seme basso, ovviamente. Eh, allora. Qua... Ah, sono costretto a spammare Palomoforza perché appunto ho finito... No, vabbè. Adesso utilizzo per un altro po' Palomoforza, ma poi... Sì, basta. Oh no, oh no, oh no. Eh, ti piacciono le attacche a distanza, eh, maledetto. Tieni, prenditi il mio Focal Colpo. Ovviamente è più potente di Palomoforza che fa male. Ecco. Malissimo. Mmm... Ah, ragazzi, aspettate. Adesso in seguimento è problematico. Un bel po' problematico, eh, perché infligge il danno indietro. Allora, adesso utilizzo qua un Focal Colpo. E poi vado di Elisir Max, assolutamente. Però per il momento assegniamo quest'ultimo Focal Colpo, vediamo. Perché mi sembra non manchi troppo. L'ultima volta che ho detto così ho sprecato almeno due ore vita al seme. Quindi devo stare attento. No, 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 no. Allora. Eh, purtroppo non ho neppure... Allora. Squadra, Shinx, mosse. Eh, allora. Per questo momento tu Shinx devi utilizzare tuononda. E paralizzarlo. Hai solo una possibilità di non morire. Perfetto. Allora, adesso io cerco di abbassargli... No! No, no, è vero. Devo far utilizzare Shinx mosso. Allora, mosso, oltretutto... Eh, mi sa che io debba per... Vabbè. Sto facendo un po'... No, 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 no. Allora, squadra. Guardate ragazzi cosa sto facendo, eh. Per... Perché sono un tilchio. Allora. Un bel attacco normale. Tu utilizza tuononda. Ok. Adesso squadra. Shinx può tornare ad utilizzare mosso. Morso e tuononda. Devo un attimo controllare il terreno, no? Allora. Wow, fantastico. Ho fatto malissimo quel colpo. Eh, no, allora. Mi metto un attimo qua, ragazzi. E inizio a recuperare punti salute. Ah, Devil addirittura li ha tutti. Aspettate, ma Devil li ha tutti perché ha... Cos'è taglionetto? No, Devil non ha... Vabbè, dai. Sono costretto ad utilizzare l'Elisir Max perché sì. Allora, no. Adesso trovo quel Clydol comunque con taglionetto, ragazzi. E mi piace come mossa. Non la conosco. Allora, un bel morso. Shinx credo non posso utilizzare l'attacco rapido, ma va bene lo stesso. Allora, Devil se la livello 29 sta per imparare una nuova mossa. Vediamo. Copione. Il Pokémon utilizza l'ultima mossa usata dall'emico che è di fronte. Alcune mosse non possono essere copiate. No, vabbè. Non mi ispira troppo come mossa, quindi direi di evitare. Allora, cerchiamo un Clydol con taglionetto. Non penso sia così difficile trovarlo, sapete, ma ho come questo presentimento. Allora, addirittura adesso c'è anche quel Dusclops che si mette in mezzo. Muori con questo inseguimento, ti prego. Allora, qua c'è un altro Dusclops. Dove sta quel Clydol, ragazzi? Furtivo ombra fa malissimo. No, il livello è troppo alto, ragazzi. Noi siamo troppo sottolivellati, purtroppo. Ti prego, Shinx, fai il miracolo. Vabbè, l'ho fatto tentennare, quindi questo fulmidente dovrebbe essere fatale. Danza Spada? Ragazzi, qualcosa mi dice che Danza Spada si rivelerà. Fantastico, fantastico. Aspettate. No, perché Danza Spada può essere meglio di... Di Stordi... Può essere meglio di Stredio, ragazzi. Perché? Eh, aspettate, però poi non potrò più combinare. Vabbè, tolgo Stredio, dai. Tanto posso ricordarlo. Danza Spada no, mi ispira molto di più, perché almeno se sto contro più Pokémon lo utilizzo una volta, ecco. Ah, giustamente adesso avrei potuto utilizzare Danza Spada. Vabbè, non ci ho pensato, ok. Questo dovrebbe essere il Clydol con taglionetto, comunque. Allora, vediamo un attimo che mossa è. Info. Causa danni e nemici che si trovano nei tre spazi davanti a chi la usa. Chi si trova di fronte? Allora, Evidenzialing. Apri... No, allora, vabbè, ovviamente la raccolgo e la scambio con una... L'ho utilizzato, un altro no. Ah, mm, mm, sono molto indeciso. Vabbè, scambiamo con questa mela e mangiamocela anche. Ovviamente, presto arriveremo in cima, però... Cioè, arriveremo all'uscita, però voglio comunque utilizzare il taglionetto. Allora, usa su Devil. Voglio vedere un attimo cosa fa. Cosa danni e nemici, ok. Questo l'ho capito. Oh, potentissima! Potentissima. Ehm, scorda. No, aspettate. Aspettate! Ma cosa ho fatto? Non ci credo! Che idiota che sono! Che idiota! Non ci credo. Come ho fatto e... Vabbè, ragazzi, non ho parole. Sono stato un idiota. No, perché stavo pensando un attimo di insegnarla a Shins. Dai, però, non è possibile. Era un'ottima mossa. Una mossa veramente troppo forte. Ah, vabbè. Vabbè, vabbè. Certo, ragazzi, che... Ho usato due MT, ho usato. No, sono stato veramente stupido qua, eh. Vabbè, vabbè, vabbè. E paralizzati, dai. Wow, Fulmidenti fa malissimo, comunque, eh, ragazzi. Buona mossa. Peccato che... Taglionetto mi sarebbe piaciuto, eh. Mi sarebbe piaciuto. Però, vabbè, la volevo insegnare al posto di... Al posto di... Di cosa? Di... Di... Di focalcolpo. Però, sì, forse non sarebbe stata un'idea troppo geniale. Per questo non sto arrossicando troppo. Altrimenti sarei stato a arrossicare fino a domani, ragazzi. Ma, va bene. Oh, quanti ce ne sono di Dusk? Bravo, Shins, che con Fulmidenti sta diventando una bestia. Veramente una belva, ragazzi. Semi-Vorax, che fa Semi-Vorax? Non lo so. Vediamo un attimo le info. Che riempie leggermente la pancia del Pokémon, ma ne riduce le dimensioni massime. No, assolutamente no. Allora, si trovano vicinissimo a dove siamo partiti. Vabbè, vabbè. Allora, scale trovate. Quindi, proseguiamo nuovamente. Morso. Eh, sì, Shins ha fatto l'abitudine a distruggere questi Pokémon. Oh, Bruciato. Perfetto. Glyscore è anche andato K-O, quindi non abbiamo sprecato neppure troppo tempo. Pietri Seme. Oh, un Gengar. Wow, 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 wow. Allora, mosse. Utilizzo un attimo una bella danza spada, eh. Forse Stredio poteva essere utile perché aiutava contro tutti e due, ragazzi, eh. Però, boh. Aia! Aia! Beh, per fortuna l'ho mandato K-O con questo. Eh sì, rivincita, rimanda al colpo. Lentosfera, vabbè. Non è uno strumento così fantastico, quindi... Uffa, però volevo taglionetto. Anche se, boh. Eh, forse dovrei rimpiangere anche l'avere utilizzato... Dovrei rimpiangere anche l'avere utilizzato... L'avere utilizzato danza spada al posto di... Vabbè, no, vabbè. Eh, danza spada al posto di... Eh... Al posto di che? Al posto di Stredio è comunque buone. È ok che Shinx poi non può sparare bene i suoi colpi, però in ogni caso io mi potenzio veramente tanto. Oddio, no, 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 no. Non scherziamo, eh. Diamo un attimo di... Ah, ok. È accaduto uno strumento là. Ah, quello dovrebbe essere il pietrisemi che avevo visto all'inizio. Peccato. Eh, sto finendo tutte le mosse, ragazzi. Sto finendo tutte le mosse. Devo riutilizzare un altro Elisir Max? Ma no, perché io penso che prestissimo raggiungeremo l'uscita, quindi no, non mi conviene sprecarli. Però che peccato, che peccato. Mi sento veramente in colpa con me stesso. Allora, procediamo. Colle oscuro piano 14. Ok, non siamo addirittura ancora arrivati. E beh, allora... No, Stredio no, non posso reggerlo. Va bene. Diamo un Elisir Max a Devil, quindi. Mosse, palmo morso. Vado prima di danza spada. Meglio. Mi fa molto male. No! No! Beh, ragazzi. Questo è il problema di giocare sottolivellati, purtroppo. Problema di giocare sottolivellati e, vabbè. Revital Seme è sprecato alla grande. Ma mori, va. Allora, danza spada, usiamola. Eh, ok. L'attacco aumenta di molto, però. Vabbè. Eh, ok. Danza spada addirittura sprecata perché arriviamo subito in cima. No, qua invece la utilizzo, danza spada, eh. Perché c'è quel Clydol. Che comunque potrebbe darmi fastidio. Sì! E vai! E vai! Non l'ho detto prima per non portarmi sfiga. E invece, guardate un po'. Guardate un po', ragazzi. Ma sì! Chi se ne frega, dai. Ti prego, Shinx, manda capò perché altrimenti sprechiamo con un altro Revital Seme e non ne usciamo più. Non ne usciamo veramente più. Ecco. Levito roccia. Fantastico, ok. Eh, allora. Spariamo con un bel foco al colpo comunque su questo Gliscor per non lasciarlo impunito. Un altro foco al colpo. Chissà cosa fa Levito roccia in questo gioco. Adesso controllo un attimo, eh. E in ogni caso posso anche scambiarla con questa MT usata. Eh, interessante Levito roccia. Insegna Levito roccia. Ecco. Chi ha la vostra posizione una trappola sul quale si trova. Questa trappola quando viene creata è invisibile, causa danni ai Pokémon che ci passano sopra. Ah, ok, va bene. Classica Levito roccia, quindi va bene. Una mossa per niente OP in questo gioco. Eh, fuoco fatto addirittura. Eh, bellissimo, bellissimo. Adesso devo stare attento perché la scottatura potrebbe, potrebbe causarmi problemi, eh. Eh, no. No, ma cosa fai? Ti prego, Shinx, muoviti. Eh. Ok, fantastico. Un altro Revitalseme è andato, eh. Eh, ok, sale di livello. Però, cosa facevo? Mi avevo utilizzato malosguardo perché ho failato a utilizzare la mossa. Un errore ho fatto. Eh, e finalmente arriviamo con dei Revitalseme sprecati, ragazzi. Vabbè. Vabbè. Wow, guarda Devil. Era la verità, il futuro è davvero un mondo d'oscurità. Quelle luci è bellissimo, ma quelle luci, quella non è la sala punizioni? Hey Devil, il grande Duskner ci ha salvato più di una volta. Ci ha anche insegnato tante cose, è per questo che ammiravo davvero Duskner, ma Duskner ci stava ingannando. Ancora adesso stento a crederci, non so più a cosa credere, sono davvero confuso. Come possiamo? Cosa possiamo, cosa possiamo far adesso? Per quanto tempo dobbiamo continuare a scappare? Come torneremo nel nostro mondo? I membri della Gilda, mi chiedo come stiano. Saranno preoccupati per noi, Wigletov, Chato, Dubidov e tutti gli altri, staranno bene? Mi manca la Gilda, voglio vedere tutti i miei amici. Shinx è piuttosto geodimorale, naturale. Tutto quello che è successo finora è così difficile da credere, anch'io sono spaventato. Ma non posso mollare adesso. Se non ce la mettiamo tutta, quei Sablei ci prenderanno. Devo fare qualcosa per tirare su il Monrally Devil. Ma parole di conforto ora suonerebbero false. Se ci fosse qualcosa da poter dire... Potrebbe essere qualunque cosa, devo farmi venire in mente qualcosa. Cosa c'è Devil? Troviamo Grovel. Cosa vuoi andare a cercare Grovel? Perché? Chiedergli una cosa? Ah capisco, Grovel la prima volta era venuto nel presente, quindi Grovel... Ok. Ma Grovel è un Pokémon cattivo, non è venuto nel nostro mondo per rubare gli ingrangi del tempo. Come posso credere a quello che dice? E tu Devil, credi? Dobbiamo credergli. Beh, io non riesco a fidarmi di lui. Di un Pokémon così? Mai, non potrò mai fidarmi di lui. Non c'è verso, ma... Ma capisco Devil, non so perché, ma Duskner vuole liberarsi di noi. Questo significa che tra i Pokémon che conosciamo qua nel futuro ci rimane solo Grovel. Non abbiamo scelta, dobbiamo affidare la nostra speranza a Grovel. Sì, assolutamente. Beh, allora siamo d'accordo. Ok Devil, rintracciamo Grovel. Troviamo Grovel e chiediamogli come tornare nel nostro mondo. Andiamo Devil, andiamo alla ricerca di Grovel. Devil, grazie. Hai provato a tirarmi su perché non stavo bene. Anche se devi provare la mia stessa paura, Devil, mi dispiace. Sebbene tu, il Pokémon più vicino e prezioso sia con me, l'ansia mi ha avvolto e mi ha quasi fatto mollare tutto. Ma in realtà non sono solo. Non mi abatterò più. Con te al mio fianco posso essere coraggioso, Devil. Adesso sto bene. Quindi forza, Devil, torniamo nel presente insieme. Uh, va bene, va bene. Io voglio trovare Grovel comunque perché Grovel è un gran Pokémon, ragazzi. Allora. Da quando Grovel se n'è andato abbiamo percorso una strada senza alcun vivio. Dunque Grovel dovrebbe essere giusto davanti a noi. Andiamo, Devil, raggiungiamo Grovel. Allora, allora. Se mi è base... Vabbè, posso prelevare qualcosa. Controllo strumenti... Ah, non posso addirittura prelevare perché ho tutto pieno, è vero. Vabbè, è tutto pronto? Tutto pronto. Ok, andiamo. Va bene. Ok, ragazzi. Spero... Ok. Pokémon acciaio. Finalmente. Finalmente. Purtroppo finché sono anche di tipo psico non può... Non è una situazione bellissima ma va bene. Allora, sfera istante? Sfera istante cosa fa? Boh. In ogni caso sempre meglio di... Di questo seme base. Oh, una mossa laggiù. Eh, vorrei ritrovare quel taglio comunque... Ah, oh, 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 oh. Ragazzi... Accumulo l'energia per un potente attacco al turno successivo, non può essere in combinazione... No, ragazzi. Questa è la mossa più potente di tipo lotta del gioco. foca al colpo mi sei piaciuta ma devo scordarti perché centripugno è la mossa è la mossa di tipo lotta centripugno boom avete visto i danni ragazzi guardate funziona così noi ci carichiamo poi il pokemon si avvicina e boom centripugno sono contento di averla oddio sono stra contento di averla trovata ragazzi stiamo parlando di centripugno una mossa adesso vi faccio vedere la sua potenza guardiamola un attimo assieme perché guardate precisione potenza a livelli stratosferici adesso che l'abbiamo trovata sono finalmente nuovamente contento wow ragazzi allora vediamo un attimo cosa fa sfera istante sdegno sfera utilizziamo la sdegno sfera ma dai si addio li abbiamo teletrasportati tutti e possiamo salire sono contentissimo ragazzi wow centripugno ma stiamo scherzando madonna ragazzi madonna anche se avessi prima insegnato taglio taglio furia quello che era adesso l'avrei sicuramente scordata per centripugno perché le altre mosse mi servono tutte morso è per coverage e danza spada vabbè serve a boostarmi che oltretutto ora va anche a boostare appunto allora un attimo che a shinx riabilito attacco rapido comunque dicevo che appunto adesso va anche a boostare centripugno la mossa più potente del gioco praticamente quasi la più potente del gioco è fortissima veramente fortissima ragazzi wow 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 sono contento sono contentissimo possiamo continuare alla grande alla grande perché adesso centripugno ragazzi non potete immaginare i danni che farà specialmente un pokemon in particolare che beh vedrete oh ciao ciao tangro utilizzo centripugno avvicinati pure boom cioè 239 36 il danno che è ragazzi ma assurdo assurdo è una mossa che diciamo serve anche in un certo senso a predictare le mosse dell'avversario serve per predictare le mosse dell'avversario magari voi siete sicuri che lui si avvicinerà e ecco andate ad utilizzare centripugno no ragazzi adesso non posso che spammarla tutti i nemici vicini perché wow wow madonna ragazzi no mi stavo leggermente incavolando più che con con il gioco con me stesso perché quella mossa che avevo trovato era veramente una buona mossa però tutto sommato eccoci qua abbiamo centripugno e non posso che essere strafelice riduttore fa un po' di contraccolpo anche a chi la usa ovviamente di danno da contraccolpo anche a chi la usa ovviamente proseguiamo 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 per di qua ci sono le scale ma si ragazzi ma si ma si tieni no 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 tieni avvicinati caro boom boom ragazzi aiuto aiuto una cosa voglio controllare ma se vengo attaccato per un turno e sfero un potente attacco questa mossa vediamo un attimo se vengo attaccato no poi lo fa lo stesso vedete a differenza del gioco originale questo è un altro effetto non 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 viene annullata se venite colpiti da qualche attacco è per questo che la ritengo veramente iper op no no non rischiare amico no voglio provare voglio provare perché sono un pazzo ragazzi centri pugno contro questo coso che ho utilizzato due rafforzatori non molto efficace 198 danni ragazzi assurdo assurdo madonna allora allora vediamo un po' cosa fare purtroppo adesso ho già finito i pp perché la sto straspammando praticamente palmo forza ti è è in preda al terrore poverino ah all'orrore ah vabbè c'era la puzza di quel coso che non ci faceva attaccare bene no voglio controllare un attimo una cosa ma palmo forza è fisica eh attacco fisico appunto no perché non vedevo tutti questi boost vediamo attacco fisico anche centri pugno ovviamente perfetto perfetto no no era solo una mia piccola curiosità ogni tanto sapete che ho queste paranoie e siamo arrivati no siamo arrivati più o meno eh dovremmo proseguire ok siamo quasi in fondo perfetto proseguiamo eh volevo dire volevo dire che ho fatto un bel po' di strada non dovrebbe mancarmi molto ormai oh oh dovrei passare per di qui in questo modo mi ritroverò di sicuro nella foresta stanno arrivando i sablei non c'è tempo da perdere a proposito chissà come se la stanno cavando quei due pokemon avranno evitato i sablei oh non ci devo pensare non è il momento devo andare ad ogni costo eh devo dare ad ogni costo la priorità alla mia missione ho promesso di portarla a termine anche a costo di fare dei sacrifici è ora di andare ehi tu fermati hm chi c'è hai invasso questo posto senza chiederci il permesso hai disturbato il nostro sonno ora senza scusarti potrai provi ad andartene chi è là chi siete come osi eh non ho letto pagherei pagherai per questo affronto dove siete smettete di nascondervi fatevi vedere ci accusi di nasconderci noi non siamo nascosti noi siamo noi siamo qui noi siamo spiritomb chi trasgredisce le nostre regole non merita nessuna pietà ah gola inviolabile seme dormita assolutamente eh la ho no stavo vedendo se avevo eh fa volare via l'obiettivo no vabbè scambiamo questa questa qua me la mangio me la mangio assolutamente va e mangia va benissimo ragazzi ottimo 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 allora proseguiamo un attimo questa sfera è una lento sfera beh penso rallenti però purtroppo non ho tutta questa possibilità di ma sì ma sì ma sì ma sì chi se ne frega voglio vedere il per 4 quanto fa 399 danni ragazzi con un pokemon che sarà minimo 5 livelli sopra noi quindi wow 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 sono contento di aver appresso questa mossa l'ho detto lo ripeto non potevo non potevo volere di meglio attacco rapido boom fantastico ragazzi riduttore da parte di questo coso adesso vabbè non vado nuovamente in centri pugni ma un bel palmo forza ci sta shinks sarà livello 31 stiamo facendo molte esperienze in questa parte che sta durando anche un bel po' ragazzi penso che un'ora durerà purtroppo purtroppo non mi va di dividere queste parti perché sono sono belle da vedere tutti assieme ecco questa parte nel futuro doveva stare tutta tutta assieme ho una nuova mt tu un'onda ne ho già una però tu un'onda ragazzi conviene conviene in che senso conviene ho delle castagne allora ordiniamo qua gli strumenti in che senso conviene semplicemente che è un mt le mt sapete benissimo che ora può individuare i nemici ottimo sapete benissimo che le mt valgono di più di tutti gli altri strumenti in questo gioco e quindi è un'ottima cosa averne una bella scorta avvicinati bel tangro e centri pugno oh si ragazzi oh si abbiamo attivato il radar per vedere la posizione di tutti i nemici sul piano vedete piano piano li vediamo tutti qua tra poco ce ne sarà un altro vabbè provo a pass è veramente il pokemon che mi impensierisce di meno grazie a magnetta scesa ora non viene più col video dalle mosse di tipo di tipo terra immagino però che ce ne frega noi allora pantano bomba oh povero shinx sta attaccando sempre il povero shinx tieni beccati un bel centri pugno adesso oh minimizzato l'illusione aumenta ma chi se ne frega perché c'è centri pugno ragazzi mossa molto precisa che beh fa il suo dovere assolutamente gola inviolabile schermo luce eh si stesso discorso per prima manda capo in un solo colpo ah molto interessante però si non mi interessa particolarmente praticamente se l'usata manda capo in un solo colpo le sfere ricordo non si possono utilizzare contro i boss assolutamente le sfere non si possono utilizzare contro i boss perché altrimenti ad esempio la la sfera che abbiamo appena visto manderebbe subito capo il nemico e sarebbe qualcosa di troppo p beh vabbè c'è la blocco sfera ma questa è giusto una delettante quindi si i semi si possono usare ecco appunto parlando di semi troviamo qua un mag che raccoglie un semi dormita ma va bene dai non mi è indispensabile posso proseguire fosse stato revito al seme pure 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 però fossa inviolabile oh ehi c'è grovail voi due grovail stai bene state indietro cosa perché fate attenzione c'è un nemico nascosto cosa dove è proprio accanto a te accanto a me non può essere chiunque sconfini in questa terra non sarà perdonato nessuno nemmeno voi chi c'è chi siete volete sapere chi siamo noi siamo spiriton siamo la manifestazione di una fusione di spiriti cento e otto di loro fate attenzione voi due quel pokemon è forte preparatevi a una sonora punizione finalmente posso attivare la mia la mia tattica iper mega fantastica allora shinx mox utilizza tononda queste per ora te le levo tu utilizzerai tononda mentre con devil andiamo di danza spada e assegniamo centripugno oh 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 questo non era previsto non era previsto per niente vabbè shinx ora dovrebbe utilizzare tononda lo paralizza perfetto e arriva al centripugno cento ah mi aspettavo di più sinceramente vabbè va bene ah spirito guarisce dalla paralisi eh paralizza per favore centripugno eccolo che arriva ah ah ragazzi eh purtroppo si purtroppo ho il problema adesso ipnosi eh eh allora no 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 così non mi piace la cosa allora cosa facciamo lanciamo un seme dormita e carichiamo un altro centripugno boom fantastico tre centripugno sono bastati eh no con shinx avrei dovuto utilizzare anche qualche altra mossa però purtroppo questo è uno dei problemi di centripugno vabbè cosa sta succedendo ah ok eh eh corriamo via fantastica fantastica questa animazione della pietra che prende e scappa ovviamente quella della roccia anima si è spaventata ed è corso via gruvail vabbè ragazzi centripugno non ha fatto i dannoni perché era comunque una mossa di danno neutro che teoricamente non avrebbe dovuto avere effetto però ha fatto i suoi danni assolutamente sì non è niente di grave riesce ad alzarti in qualche modo a quel pokemon era scaltro mi ha preso alla sprovvista e ha preso il controllo del mio corpo allora era un pokemon cattivo no non è così quello spiritomb probabilmente era agitato perché aveva invasto il suo spazio è stato spaventato perché era talmente arrabbiato che ha perso il controllo mi avete visto ma avete visto cosa è successo quando la situazione si è fatta critica è scappato generalmente è un pokemon timoroso nel futuro ci sono molti pokemon così sono pokemon che dovrebbero essere buoni ma sono diventati tristi e alterati a causa della perpetua oscurità del mondo capisco questo mondo rende i pokemon buoni cattivi che tristezza ehi voi due ora mi credete finalmente un po' di più lo ammetto non mi fido molto ma ve l'ho già detto non ha senso continuare insieme se tra noi non c'è fiducia io me ne vado oh aspetta non ho detto che non ti credo a essere davvero onesto ecco noi non sappiamo più cosa fare è per questo che vogliamo sapere di più e insomma non mi fido ancora completamente di te Grovel però quello che ci hai raccontato sembra essere vero sembra avere una logica quindi per favore Grovel dicci quello che sai parlaci di questo futuro spiegaci perché sei venuto nel nostro mondo Grovel e se vi dicessi solo una serie di falsità va bene non prenderò per vero tutto ciò che ci dirai ascolterò poi prenderò una decisione beh va bene seguitemi vuoi salvare l'avventura si ragazzi abbiamo fatto praticamente un'ora precisa di video di video qualcosa in più quindi direi per non rovinare questo magico momento di salutarci subito parte fantastica a me piace veramente tantissimo appunto questo capitolo in generale e questa ambientazione futuristica e beh vedremo come andrà avanti io vi ringrazio per la visione quindi alla prossima ciao a tutti ciao a tutti